Allora se facciamo silenzio possiamo iniziare la possibilità di inizio allo spettacolo. Signore e signori, genitori, professori, dirigente scolastico, buonasera a tutti. Vogliamo ringraziare il nostro dirigente scolastico, professor Francesco D'Amore, molto sensibile all'attività orchestrale del nostro istituto. L'orchestra delle classi prime della scuola media Padre Pio vi dà il benvenuto e vi ringrazio per essere intervenuti a questo ormai consolidato appuntamento musicale che conclude il 2019. Per questa occasione saremo niente di proprio un revertorio di brani strumentali tratti dal revertorio tradizionale natalizio. In tutti questi anni è stata premuta privilegiata e sostenuta l'attività di musica all'insieme delle condizioni che l'esperienza musicale diventa un percorso educativo e formativo. L'orchestra è formata da oltre 30 alunni delle classi prime del corso di indirizzo musicale. A tale proposito si ringraziano i docenti di strumento musicale, i quali hanno guidato e coordinato l'attività orchestrale con grande dedizione di impegno. Nello specialico ringraziamo il professor Marco Taurisani, docente di Frauto Traverso, il professor Valerio Stiglio, il professor Valerio Stiglio, docente di Clonoforte, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Segui il brano di Aldeo, una danza finanziaria, tratto dall'antologia del lettore pianistico. Buon ascolto. Grazie. 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 il Natale è ottenuta una tradizione di bordo diffusa in tutta Italia. la vita prodigiaro popolare. e la corona muscia che venivano nata nel periodo delle feste. È, quindi, un simbolo di gioia per la festività in angolo. L'abbinamento della pipa con l'olio di pipa è curioso. Il canto paulare, infatti, sembrerebbe il zutto della spizia dei venditori volanti d'olio brisciani, che avrebbero creato un nuovo testo sulla base di un'antichissima lina luna. Quello che attualmente chiamava Ciccol veniva suonato dal donatore di Tornamusa che accompagnava i venditori d'olio. Siccome l'olio è pronto per la vendita, proprio nel mese di dicembre, si è creata questa sovrapposizione tra lo spettacolo commerciale della vendita dell'olio e le feste in attenzia. Viva, viva l'olio l'oliva! Viva, viva l'olio l'oliva! L'olio bambin che porti bene! L'olio fa mamma che splendida nana! Qua la nanna, bel bambin, rendivin, rendivin! Grazie! 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 Il disco doveva inizialmente uscire in occasione della Pasqua del 1985 e il brano doveva intitolarsi Last Easter, la scorsa Pasqua. La casa discografica dell'uomo insistente affinché il disco fosse prodotto per il notare del 1984 e così cambiò anche il titolo che divenne Last Christmas, ossia lo scorso Natale. Il simbolo uscì il 15 dicembre del 1984. Segue una parte della traduzione del testo. Lo scorso Natale ti ho dato un rumore, ma proprio il giorno successivo l'hai buttato via. Quest'anno, per evitare le lacrime, lo darò a qualcuno speciale. Ferito già una volta e, doppiamente intimidito, mi tengo a distanza, ma continuo ad attirare la mia attenzione. Un volto con il fuoco vivo nel proprio cuore, un uomo indifeso, maturo e stanzato. Forse l'anno prossimo lo darò qualcuno, a qualcuno speciale. Con questo brano, gli alunni delle classi trim e di strumento musicale vi salutano e vi auguro un sereno Natale e un felice e fortunato 2020. Dò l'ascolto. Applausi. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti